Pari Diamanti, nuovo segretario della CGL di Forlì, un incarico che arriva in un momento certamente non facile, innanzitutto che cosa rappresenta per lei questo nuovo ruolo? Certamente è fonte di soddisfazione unita al grande senso di responsabilità che avverto in questo momento, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare una persona innanzitutto, Enzo Santolini con cui in questi anni abbiamo condiviso battaglie, idee, iniziative, che ha permesso che questo avvenisse con tranquillità e serenità. Le vostre priorità in questo tempo di crisi? Noi in questo tempo di crisi abbiamo un primo obiettivo, mettere in piedi tutte quelle iniziative che possono riuscire a ridurre l'impatto che questa crisi ha sui lavoratori, sui lavoratrici, sui giovani, sui anziani, fare in modo che non si sentano soli, dare attuazione a quello che è il patto per attraversare la crisi, quindi applicare tutti gli strumenti, tutti gli ammortizzatori sociali che danno una fonte di reddito, intervenire nei confronti delle istituzioni locali perché abbiano a cuore e a mente che ci sono degli ultimi che non si possono abbandonare. Tra chiusure e crisi aziendali i livelli di cassa integrazione restano alti nel territorio forlivese, quali sono le speranze di riassorbimento? È un punto critico, dove la lettura che ne possiamo fare è quella di un permanere delle difficoltà e degli utilizzi in maniera massiccia degli ammortizzatori, dove magari cala un po' la cassa integrazione ordinaria, che è quella meno grave, ma aumentano le cassa integrazioni straordinarie, i lavoratori iscritti nella lista di mobilità e i disoccupati. segno che il tempo non è un elemento indifferente e aggrava la situazione complessivamente.